Ciao ragazzi sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video di Genshin Impact, oggi parliamo di Utao, ma di quello che sappiamo a livello ufficiale, quindi alcun tipo di leak, ma tramite i vari personaggi, le varie notizie che abbiamo qua e là, possiamo cominciare veramente, visto che ormai ci siamo, a tirare un profilo abbastanza accurato di quello che poi sarà la nostra personaggina, che tanto tanto molti di noi, almeno io tantissimo, stiamo aspettando, innanzitutto perché possiamo parlarne e perché ne siamo così certi, perché come avete già visto dalle mie live anche su Twitch eccetera, abbiamo nelle name card la possibilità di vedere che raggiungendo la friendship livello 10 con Utao otterremo questo background col fantasmino, quindi di fatto il gioco ci sta già dicendo che Utao arriverà, e arriverà probabilmente dopo Xiao, quindi siamo lì, ce la sentiamo, non sappiamo ancora le date precise, ma più o meno è qua. E allora, partiamo a investigare su Utao da il suo luogo di lavoro, ovvero le sue onoranze funebri, perché lei è la sentata settesima direttrice delle onoranze funebri e John Lee, che è molto legato a lei, è il suo consulente. Di conseguenza, guardate come viene posizionata l'onoranze funebri all'interno della città, nascosta un po' di lato. Perché? Perché è risaputo purtroppo, anche nella nostra cultura, che l'undertaker, che è il becchino, portino purtroppo un po' sfortuna nell'immaginario collettivo. E poi, di conseguenza, anche un po' per la privacy e per il fatto che si ha paura un po' della morte e si vuole tendere a evitarla e non averla sotto gli occhi, è stata costruita lo Wansheng Funeral Parlor, quindi l'onoranze funebri, in una parte un pochettino più nascosta. E noi abbiamo, dalle sette di sera fino alle sei di mattina, l'opportunità di parlare con la fairy lady, la becchina, di fatto. Ed è molto divertente, perché ci sono dei dialoghi divertenti, se noi diciamo ciao, continuiamo, sedite, punto, punto, non parliamo. Lei continua a non fare, noi gli facciamo, oh, ma ci sei? Can you see me, John Cena? Vabbè, are you accosting me? Accosting viene utilizzato in inglese per i termini tipo i barboni che vi approcciano nelle sottopassaggi, cose di questo tipo, ma, cioè, mi stai provando a parlare? In, qua, in questa città, generalmente non è, non è, non è costume per la gente parlare a quelli che tra di noi lavorano nelle oranze funebri. Oltretutto voi dovete essere stranieri, o siete qualcos'altro, allora, se voi gli dite, we are probably counting something else, cioè, noi possiamo veramente valere per qualcos'altro, lei si spaventa e crede che siamo dei fantasmi, e ci dice, andate verso la luce, invece se gli dici, no, no, hai ragione, non siamo di qui, allora, ah, capisco, ciao, è molto felice di parlarci, ora poi vi spiego perché. Ma io lavoro qui per le oranze funebri della Wang Sheng, a pensarci non parlavo con qualcuno che non fosse di qui da davvero tanto tempo, e persino quando io sono al lavoro non parlo con la famiglia di quelli che, dei familiari dei deceduti, in modo tale da non mancare di rispetto per le vecchie osanze, che qua c'è tutta una questione delle vecchie osanze, appunto. Quando la notte cala, la famiglia lascia tutto quello che è necessario e qualche piccola cosa da mangiare, e poi si ritira nelle proprie stanze dove chiudono le porte a chiave. Allora, a quel punto, io vado a fare il mio lavoro silenziosamente preparando le ceneri prima, before taking my leave, prima di andarmene. Così per me qualcuno che mi parla specialmente di notte è qualcosa di impensabile, quindi scusatemi se non vi ho voluto ignorare intenzionalmente. E qua ci spiega, probabilmente, è molto importante questo aspetto perché quello che sappiamo di Hu Tao è che è un po' pazzerella, no? Che comunque lì lei vede i fantasmini, è un po' fuori di testa e poi vedremo anche per chi dà le varie discussioni che avremo dei vari bulletin. Probabilmente la sua esuberanza e la sua voglia di scherzare un po' particolare deriva appunto da queste pratiche, dal fatto che comunque lei per essere Ligia ai vecchi costumi e alle tradizioni non debba parlare con nessuno, che solo di notte può fare le sue cose, che è molto Ligia e molto costretta all'interno di una storia, che è una forma di rispetto e di religiosità e rigorosità della sua professione. Ora, andando avanti, per sapere qualcos'altro su Hu Tao possiamo controllare il bulletin, ovvero regolarmente sapete che vengono lasciati nei messaggi qua nella bacheca. E ce ne sono alcuni, c'è il filo bulletin, ci sono varie tra questi che possiamo trovare. Io per semplificare ve li faccio direttamente vedere quelli che riguardano lei, e sono due. Il primo che possiamo trovare del Fanyun's Law bulletin board è riguardo a Cici, e fa riderissimo, perché voi sapete che Cici è una zombie, no? E di conseguenza è una non morta, e poi capite che mettete un becchino a fianco a una non morta. Detto questo, se c'è qualche residente che vede nell'area, che vede una bambina zombie nel mezzo della notte, che fa, che si sgranchisce o va in giro a raccogliere erbe sulle montagne, per favore non spaventatevi, il suo nome è Cici. È una studentessa di medicina che aiuta la farmacia Bubu, ed è completamente innocua. Il messaggio è da parte di Baizu, della Bubu Pharmacy, perché probabilmente qualcuno si è spaventato. E un'altra nota rilascia appunto, la vita e la morte sono decise dal fato. Perché ritardare l'inevitabile? Perché soffrire e vivere a lungo con qualcuno che dovrebbe già essere morto e andato? Portate Cici alle loro ranze funebri e noi provvederemo un comprensivo stress-free funeral, senza stress funerale, un servizio di funerale in sicurezza e nel rispetto di far tornare lei agli elementi. Non sarebbe meraviglioso la risposta? Per favore direttore Wu, non scherzi, perché Wu Tao viene chiamata direttore Wu, no? E fa morire da ridere perché lei sembra la Taffo, t***o, ma lei è la Taffo. Un altro ragazzi messaggio molto bello che troviamo e simpatico riguardo sempre Wu Tao, lo abbiamo nel Wang Shu in Bulletin Board, che è la locanda di Wang Shu, dove abbiamo un primo messaggio appunto di un guest generico che parla di come lui sia stato bene a parlare col suo amico studente di Sumeru, abbiamo parlato tutta la notte, e poi dopo c'è un altro che dice Dovrei tornare indietro alle onoranze funebri dopo che l'interruzione della pioggia, altrimenti la direttrice Wu potrebbe venire qui e trascinarmi con la forza. Mi fa ridere che questo sia John Glee a parlare. Perché? È perché lei ha una personalità di quelle belle toste, e io mi immagino John Glee lì che mangia, che viene trascinato da Wu Tao con i fantasmini tutta pazza, che lo porta, che lo porta via. Non è finita qui perché abbiamo anche a che fare con tutte le varie voice line riguardo a Wu Tao di alcuni personaggi, ve li farò, li leggerò direttamente da qua perché alcuni di questi, tipo Xiao, non ce l'ho a livello france, ma abbastanza alto per riprodurla nel mio gioco, mentre altri sì. Quindi, che cosa dice su Wu Tao, Xiao? Wu Tao, la sua vivacità mi irrita. Per fortuna è anche molto divertente, quindi non dobbiamo preoccuparci che si trasformi in una, che non cresca in un'umana noiosa. Comunque lui riconosce il fatto che sia divertente, sia un po' molesta, però comunque è una persona divertente che è una buona persona. Xingqiu invece che cosa pensa Xingqiu di Wu Tao? Ah sì, la ragazza giovane che è il nuovo maestro, è la nuova direttrice delle pompe funebri, delle naranze funebri. Se mi stai chiedendo che cosa penso riguardo a questa persona, bene, ci sono un po' di pettegolezzi che girano attorno a come lei lavora, ma penso che se vuoi veramente capire qualcuno, devi scoprirlo, devi scoprire cosa loro sono veramente, cosa stanno cercando, cosa stanno inseguendo. Lui dice, ci sono un sacco di rumor del fatto che probabilmente lei è messa un po' in disparte, è un po' vista come no, la pazza del paese, o comunque qualcuno a cui tenersi la larga. Però Xingqiu è un ragazzo speciale, come spesso diciamo, ma che comunque dice, io non mi avvalgo dei pregiudizi, prima conosciamo e vediamo quali sono i suoi interessi. Xingqiu diciamo che non è molto avvezzo a Wu Tao, non la fa, non le fa proprio passire, perché nel suo commento dice, ogni volta che, lui dice che il Wang Sheng Funeral Parole, quindi le naranze funebri di Wang Sheng, sono un'istituzione rispettabile e che agisce con integrità. Però ogni volta che io vedo quel sorrisino, quel cheeky smile, mentre dice, non c'è niente che voi esorcisti, vi dobbiate preoccupare, mi fa ribollire il sangue. Respira piano, Xingqiu, respiri profondi, stai calmo. Questa è simpaticissima. Che cosa pensa Xia Ling invece di Wu Tao? Wu Tao ti ha tirato brutto scherzo anche a te. Quella scherzona, prankster, vabbè, quella prankster è sempre alla ricerca, no? Aspetta sempre nell'ombra, cercando di spaventarti da dietro e poi, buh, e poi comincia a ridere come una matta. Però posso gestirla, posso sopportarla, anche perché mi porta sempre delle prugne, dei boccioli di prugna fermentati ogni di tanto in tanto. E io posso fare delle torte di fiori, quindi non posso tenerle il broncio. Alla fine Xia Ling se la prendi per la gola. Quindi, comunque lei, sì, ti fa lo scherzino, però poi ti fa anche il regalino. Cosa pensa Zhong Lee, ragazzi? Cosa pensa Zhong Lee di Wu Tao? Cosa pensa dell'attuale sovraintendente delle pompe funebri? No, I cannot deal with that child. Non posso avere niente a che fa, non riesco a gestire sta ragazzina. Lui non fa, lui si è arreso. Cosa pensa di Wu Tao? Chi Chi è calda, dal sorriso finto, morte. Io voglio distruggerti Wu Tao, ti disprezzo. Poverina, perché la vuol far sempre secca. Infine abbiamo Xin Yan. Cosa pensa Xin Yan di Wu Tao? E fa ridere da morire. Io non ho idea di cosa pensi con la ragazza. È sempre lì in giro che va tutta felice, quando comunque lei è la direttrice di una pompa funebre, non riesce a realizzare questo dualismo. Sempre essere gioiosa e salutare tutti con felicità, dicendo mi piace, a me dice sempre mi piace la gente che gioca col fuoco, sono buoni per il mercato, sono buoni per gli affari o comunque qualcosa di quel genere. È un po' strana, lasciatelo dire. Lei è taffo, lei è taffo. Lei va da Xin Yan e dice mi piace che giochi col fuoco, potresti morire. Quindi, bene per gli affari. No, mi fa troppo ridere Wu Tao ragazzi, mi fa veramente troppo troppo ridere. Questo era tutto quello che sappiamo per ora a livello ufficiale, quindi non le descrizioni specifiche del personaggio, ma tutto quello che sappiamo ufficiale tramite la spiegazione di altri personaggi dell'ambito di gioco per quanto riguarda Wu Tao. Io vorrei sapere voi cosa ne pensate di Wu Tao. Lasciatemi qua sotto un qualche commento riguardo al personaggio, se vi è piaciuta la puntata, se vi è piaciuto questo formatino che vi ho portato. So che tutti pullerete la lancia appena uscirà, penso che uscirà oggi perché la pubblicherò il 23 a questo video, quindi la lancia è straforte per Wu Tao, è straforte anche per John Glee, quindi vi consiglio assolutamente di pullarla, nel caso vi esce una gravestone. Detto questo vi invito a iscrivervi, vi invito a lasciarmi un like, seguirmi anche su tutti i miei altri social, Instagram sono live, mi raccomando, lunedì, mercoledì e venerdì con Genshin Impact su Twitch alle 9 e la domenica al Just Chatting sempre alle 9 dove possiamo parlare di qualunque cosa. Vi auguro una buona serata e United State of Zerga. Ciao belli!